Eccolo qui, il Marchese Canonici, l'uomo che ha trasformato un complesso certosino rinascimentale in uno dei più affascinanti cimiteri monumentali d'Europa. Dopo Borso d'Este, lui è il secondo padre della Certosa. Ma Canonici è anche l'inventore di un altro luogo di comunità, percorso ogni giorno da tutti i ferraresi durante la vasca in centro e da migliaia di turisti con il naso all'insù. Questa è piazza Trento Trieste, piazza delle erbe un tempo. E questa è la sua pavimentazione originale. No, non è una trappola per farvi inciampare. È un'isola ideale che rende ancora più speciale questa quinta a cielo aperto. Noi autoctoni lo chiamiamo da sempre il listone. Bravo Canonici, noi passeggiamo sulle tue idee. Grazie per la visione!